Sentiamo ora la voce di un'altra componente della giunta guidata da Roberto Maroni e parliamo del PDL Ambiente con l'assessore Claudia Terzi. Assessore Terzi, lei è relazionato oggi in consiglio sul progetto di legge ambiente che è articolato in quattro punti, ce li sintetizza? Sì, sono quattro punti a cui teniamo molto, in maniera differente ma teniamo molto. Il primo punto riguarda sostanzialmente la messa in legge di quella che è stata la moratoria che la giunta ha varato alla fine di luglio di questo anno. Quindi degli aggiornamenti legislativi e d'altra parte la presa d'atto del fatto che in regione Lombardia non servono ulteriori inceneritori. Il secondo punto riguarda l'IMV, il deflusso minimo vitale, cioè quell'acqua che necessariamente deve rimanere nei fiumi per fare in modo che la fauna ittica venga mantenuta in vita e che è collegata quindi all'utilizzo dei fiumi e delle sorgenti delle nostre acque utilizzate per le centrali idroelettriche. Quello che abbiamo inteso fare oggi con questo provvedimento è quello di imporre al concessionario o a sue spese un controllo costante affinché quindi non si verifichino più quegli episodi che più o meno casuali in passato hanno portato al prosciugamento di fatto dei fiumi con delle conseguenze ambientali importanti a favore soprattutto di chi utilizza, di chi deriva l'acqua, di chi lo utilizza. Il terzo punto invece riguarda il catastro dei sottoservizi molto importante soprattutto per gli amministratori che devono redigere quei piani che devono tener conto ovviamente di quelli che sono i sottoservizi che hanno nel sottosuolo appunto e che ad oggi sono sempre stati difficili da mappare e per cui reperire informazione è complicato. Infine l'ultimo è quello relativo agli osservatori ambientali con particolare attenzione a quello previsto per l'Expo 2015. Gli osservatori ambientali sono quegli enti che sono creati per verificare che tutte le prescrizioni ambientali vengono adempiute. Come sono stati strutturati fino ad oggi diventava un po' complicata la loro azione e abbiamo inteso snellirli proprio per fare in modo che la loro azione sia il più efficace e il più efficiente possibile. Sarà messo in votazione? Sì stiamo discutendo, abbiamo avuto qualche discussione con il centro-sinistra che ci ha eccepito sostanzialmente il fatto di aver messo troppi argomenti in unico PDL e noi tenevamo a portare il prima possibile e li abbiamo accoppati perché comunque tutti coerenti e regolanti in qualche modo la questione ambiente e ci tenevamo a metterli in discussione il prima possibile proprio per evitare lungaggini che in qualche modo potessero andare a favore di tutti ma non dei cittadini lombardi.